Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Benvenuti a una nuova puntata, abbiamo ospite un cantante, un cos. Cos, la prima domanda più semplice, più spontanea, prima cosa, perché Cos e chi è Cos? Allora, Cos è stato un nome che ho scelto perché si è in realtà un po' evoluto negli anni, nel senso il mio nome è Cosimo e i miei amici poi hanno iniziato a chiamarmi Cosmi e per un po' di anni, poi da lì in realtà si è abbreviato il tutorial, è rimasto Cos, che in realtà mi è sempre piaciuto, suonava bene, allora ho detto dai, perché no, chiamiamoci così come nome d'arte. E riguardo a me, sono Cosimo appunto, ho vent'anni, sono nato a Modena e ho a che fare, tra parentesi, con la musica da quando avevo sei anni praticamente, sei, otto anni, quando mi hanno regalato la mia prima chitarrina, ho iniziato subito a suonare, mi sono messo subito lì, mi sono appassionato immediatamente e adesso, a vent'anni, ancora ho la stessa passione di quando ero bambino. E a questo punto parliamo di un nuovo disco, questo singolo che è uscito, questo lavoro, come nasce questo lavoro, la cosa è tra te ispirazioni? Allora, la canzone nasce a causa di un errore, nel senso ho fatto un errore molto grave nei confronti della mia ragazza e questa è, diciamo, una lettera di scuse messa in formato musicale, ecco, e ne è uscita questa canzone, appunto. A questo punto, nella realizzazione dei tuoi testi, come nascono prima le parole, prima nasce la musica, oppure c'è un riff, un beat che ti è venuto in mente e da lì è cresciuta, oppure nascono insieme? No, allora, prima, poi, a salvo casi eccezionali, solitamente prendo la mia chitarra e mentre suono magari mi esce un giro che mi piace abbastanza, da lì dico, ok, va bene, registro questo giro di chitarra, cioè proprio così al telefono, giusto per registrare un attimo, lo registro e poi inizio a trovare la melodia vocale e poi ci metto sopra le parole, magari di testi che ho scritto che non erano neanche canzoni, erano miei pensieri, magari cose del genere, e si trasforma un attimo il testo e nasce la canzone. Sicuramente hai suonato dal vivo, più volte, qual è l'emozione in modo cui sali sul palco e di fronte hai un pubblico che ti ascolta inizialmente silenzioso, ma poi partecipa e partecipante con la tua canzone e quindi ti emana quella energia che tu ritrasmetti a loro con la tua canzone. Qual è la tua sensazione che provi a quel punto? Allora, in realtà, ti dirò la verità, ho suonato veramente poche volte dal vivo, però quelle poche volte, cioè la mattina, l'inizio è sempre la stessa cosa, prima di magari salire sul palco o cose del genere, ho un'ansia incredibile, la mia testa pensa, ok, vai via, non cantare più, scappa, poi una volta salito sul palco, inizia a dire quella prima frase della canzone, mi sono già sciolto da lì, è tutto mio, capito? Cioè il palco è lì, il pubblico è lì ad ascoltarmi, io voglio trasmettere quello che sto provando in quel momento, quello che ho voluto trasmettere scrivendo la canzone, e mi auguro sempre di riuscirci. E invece ci sono artisti che nel tempo ti hanno fatto crescere anche artisticamente, e che comunque porti dietro perché in fondo fanno parte anche della tua vita? Certo, allora, a partire da band che ascoltavano i miei genitori, come Dire Straits e Led Zeppelin, adesso sono rimasto, diciamo, nei sottogeneri del rock, però un po' più moderni, sono molto pop-punk, parlo stile dei Green Day o emo-punk come dei My Chemical Romance, e Penny Cut the Disco, Fall Out Boy, tutte band comunque non indifferenti, e invece di italiani non avevo mai trovato nessuno a fare queste cose, fino a quando non è poi arrivato magari Nasca, che è un ragazzo non ancora troppo conosciuto, però comunque fa quel genere lì in italiano che non è molto facile, ed è una cosa a cui punto anch'io, ecco. E a questo punto, dando progetti futuri, oltre a questo singolo, se è in lavorazione anche un EP, un CD? Allora, per adesso stiamo lavorando a un altro brano, momentaneamente, e quindi poi dopo l'uscita di questo brano si vedrà come andare avanti, ecco. E dico solo che resta comunque, quest'altro nuovo brano resta sempre su quel genere, però è un po' più triste, diciamo, ecco, un po' più ballad. Se dovessi descrivere il tuo genere fai, come lo descriveresti a chi c'è? Allora, il mio è un genere con le sonorità molto pop, quindi è praticamente del pop, solo che non ho voluto abbandonare gli strumenti veri e propri, cioè anziché magari fare, usare, utilizzare dei sample già fatti al computer e cose del genere, preferisco proprio la chitarra, la batteria, il basso, e magari aggiungerci dei sample fatti già al computer, ma i vecchi strumenti, quelli fisici, non voglio abbandonarli, quindi comunque è un pop rock, diciamo, tra parentesi. Abbiamo visto la copertina che è molto prigosa, è un disegno, ma c'è praticamente rappresentato un pochettino il senso logico della stessa canzone. Esattamente. Quindi, ti piacerebbe fare dei duetti o collaborare con qualche artista cosiddetto big, o comunque anche meglio big, ci sarebbe nel cassetto un sogno di fare qualcosa? Ce ne sono veramente tanti. Allora, uno tra questi è appunto lo stesso Nasca che ho nominato poco fa, e nonostante non sia ancora proprio un gran big, però di altri, eh, ce ne sono... Di italiani ti direi Bennato in realtà, perché Bennato mi è sempre piaciuto da morire. Di magari stranieri ce ne sono troppi, tipo tutti. Ah, e a questo punto, scusami, un secondo, mi è partito un pochettino. Allora, progetti futuri mi le raccontate. A questo punto, sogni nel cassetto? Il cassetto è questo. Cioè, ovviamente sto cercando di realizzarlo il più possibile, mi sono nel cassetto è arrivare a un certo punto. Non voglio dire sono arrivato, cioè non voglio mai arrivare a quel punto, voglio sempre crescere il più possibile. Non voglio mai fermarmi, voglio arrivare su palchi dove ci sono milioni di persone, magari, a cantare la mia stessa canzone, un po' come... Adesso sto esagerando, eh, però, come dire, ad esempio, i Queen, Wembley, e fare quel momento di silenzio in cui tutto il pubblico canta la tua canzone, lì mi riterrò soddisfatto. E a questo punto mancano... Noi ci diamo appuntamento al prossimo brano, e a questo punto ci mancano i tuoi saluti finali. Io, allora, vi ringrazio, grazie a tutti veramente, vi mando un saluto e un bacione. Grazie mille e grazie. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Guardami dentro, che fu... e grazie mille e grazie a tutti.